Cari rovetari, oggi vi parlo di una patologia diffusissima nel cane anziano, in assoluto la patologia cardiaca del cane anziano più frequente e che vi preoccupa anche tantissimo quando in realtà molto spesso è una patologia cronica, si ingravescente, ma a lungo decorso quindi non dovrebbe suscitarvi così tanto timore come spesso invece vi crea sto parlando dell'insufficienza mitralica del cane la valvola mitrale è una valvola che sta all'interno del cuore tra atro sinistro e ventricolo sinistro consente quindi il passaggio del sangue dall'atro sinistro al ventricolo sinistro e soprattutto impedisce al sangue di tornare indietro con l'invecchiamento questa valvola può diventare insufficiente ci sono anche alcune patologie come la degenerazione mixomatosa dei lembi della valvola che la portano ad accartocciarsi comunque indipendentemente dalla causa se la valvola diventa insufficiente non chiude più bene e il sangue torna indietro dal ventricolo sinistro all'altro sinistro provocando quello che viene chiamato rigurgito e se il rigurgito diventa molto importante il sangue torna sempre più indietro fino ad andare a sovraccaricare i polmoni ecco perché poi il sintomo e lo scompenso di questa patologia di fatto si traduce in un edema polmonare il sangue che non riesce più a defluire bene dal cuore e dai polmoni si accumula all'interno del polmone aumenta la pressione a monte e la parte di acqua contenuta nel sangue esce negli alveoli provocando appunto l'edema polmonare quindi una sintomatologia respiratoria l'edema polmonare è la fase finale di scompenso della patologia cardiaca ovviamente prima noi possiamo fare molto per andare a ridurre la velocità con cui questa patologia progredisce il sintomo principale è il soffio cardiaco che sente di solito il veterinario in visita il soffio è creato proprio da quel rigurgito di cui vi parlavo prima quindi il sangue tornando indietro passa attraverso questa valvola che non chiude bene e fa un rumore che il veterinario può sentire col fornendoscopio però quando il soffio è molto molto grave anche voi potete sentire appoggiando la mano al torace del cane un fremito viene definito come un movimento, adesso è un'immagine un po' brutta, perdonatemi il sacchetto dei vermetti, quelli per andare a pesca, non so se vi è mai capitato di toccarlo si sentono i vermetti attraverso la tela che si muovono ecco molto a grandi linee si sente questo fremito sulla mano proprio perché è la vibrazione del sangue che passa attraverso il cuore che si trasferisce sul torace del cane e voi potete sentirla ovviamente in questi casi il soffio è già grave, molto avanzato mentre il veterinario può ascoltare il soffio agli stadi iniziali ecco perché in tutte le visite annuali che fate di controllo l'ascoltazione è sempre importante esiste ovviamente una predisposizione di razza e soprattutto di taglia vengono colpiti soprattutto i cani di piccola taglia sotto i 20 kg di peso ma soprattutto quelli maggiormente colpiti sono proprio quelli dai 5, 6, 10 kg quindi la taglia piccola abbiamo detto che la degenerazione della valvola è progressiva tendenzialmente inizia verso i 6-8 anni di età come età media puoi cominciare prima, ci sono casi molto precoci soprattutto in alcune razze che vedremo e ci sono invece casi più tardivi sui 10-12 anni le razze in assoluto più predisposte proprio quella razza che quando viene in visita io la prima cosa che faccio è sentirgli il cuore è il bassotto ha anche forme abbastanza giovanili il Cavalier King Charles Spaniel anche lui soggetto a forme giovanili il Chihuahua il Barboncino il Maltese il Pinscher e il Bigoli e ovviamente tutti i loro meticci abbiamo detto che la cosa più importante è la prevenzione quindi l'ascoltazione ad ogni visita quindi riuscire a identificare il soffio molto precocemente perché i sintomi quando si manifestano sono già abbastanza tardivi come sintomi abbiamo l'affaticamento la tosse soprattutto durante i momenti di agitazione respiro rapido e frequente inappetenza e da ultimo l'edema polmonare che porta a una grave dispnea con cianosi quindi lingua blu un altro sintomo molto grave di scompenso cardiaco è la sincope quindi lo svenimento solitamente segue l'edema polmonare ma non è detto tutti questi sintomi sono estremamente avanzati quindi è per questo che vi dico ancora una volta monitorate il cuore del vostro cane una volta identificato un soffio all'ascoltazione è necessario fare un'ecocardiografia quindi andare da un cardiologo che vi fa sia l'elettrocardiogramma sia l'ecocardiografia l'elettrocardiogramma va a analizzare l'elettricità l'attività elettrica del cuore mentre l'ecocardiografia va a vedere proprio le camere cardiache e soprattutto il rigurgito di cui dicevamo prima anche la radiografia del torace può rendersi necessaria per vedere se già i polmoni sono congestionati l'ecocardiografia non solo vi dice se c'è insufficienza mitralica oppure no ma vi dice soprattutto la gravità della patologia a che stadio siamo e è fondamentale per stabilire una corretta terapia ed è proprio la terapia che servirà a rallentare la progressione della malattia allungando la vita del paziente quindi è per questo che mi batto per passarvi questo messaggio di non cominciare terapia alla cieca ma avere sempre un cardiologo e un'ecocardiografia che vi danno l'idea della gravità esistono 4 stadi di insufficienza mitralica vediamoli nel dettaglio lo stadio A sono pazienti predisposti a sviluppare malattia ma che ancora non ce l'hanno quindi tutte quelle raste che dovrebbero fare screening annuali regolari proprio perché sono estremamente predisposti lo stadio B lo stadio B vede un danno strutturale lieve quindi la valvola magari già incomincia a non chiudere bene ma non ci sono sintomi e si divide in due sottostadi il B1 i B1 sono pazienti asintomatici ma che hanno non evidenze all'esame da dover fare una terapia quindi non devono fare terapia perché la situazione è talmente lieve che non c'è ancora necessità di andare ad aiutare quella valvola i B2 sono pazienti sempre asintomatici ma che hanno già dei segni a livello ecocardiografico di rimodellamento cardiaco e sovraccarico cardiaco quindi cosa succede quando la valvola smette di chiudere bene e c'è questo rigurgito all'inizio c'è solo un po' di rigurgito e basta dopo il cuore incomincia a modificare la sua struttura e quindi si rimodella proprio quindi le camere si dilatano per andare a compensare questo rigurgito quindi vuol dire che il B2 ha già questo rimodellamento cardiaco serve un aiutino e quindi si comincia di solito la terapia con Pimobendan che è un farmaco che migliora la contrattività cardiaca e quindi riduce il rimodellamento cardiaco e la progressione della patologia lo stadio C invece ha già dei segni clinici iniziali quindi qualche piccolo sintomo c'è il rimodellamento cardiaco è estremamente marcato serve una terapia per evitare lo scompenso cardiaco questi pazienti vanno sempre terapizzati perché sono molto suscettibili a scompenso cardiaco con edema polmonare la terapia la devono fare a vita poi abbiamo lo stadio D della malattia che è lo stadio terminale lo stadio in cui non rispondono alla terapia solitamente sono ricoverati in clinica sotto stretta sorveglianza e quindi diciamo è uno stadio proprio terminale abbiamo visto che nello stadio B2 si comincia una terapia a base di Pimobendan che serve per bloccare la patologia il più a lungo possibile serve per allungare il periodo in cui non ci sono sintomi quindi è uno stadio che dobbiamo cercare di allungare il più possibile quando siamo già nello stadio C e cominciano ad esserci sintomi ecco che la terapia va incrementata quindi vengono aggiunti diuretici ACI inibitori viene sempre comunque continuato di solito il Pimobendan a volte viene inserito anche lo spironolattone e ovviamente a volte si può avere lo scompenso cardiaco con edema polmonare che richiede una terapia d'urgenza in clinica dall'endema polmonare poi se ne può uscire con una terapia riveduta e corretta quindi che viene di solito aumentata perché in quel momento il cane ha avuto uno scompenso cardiaco quindi la terapia che stava facendo non era più adeguata le modifiche alle terapie sono importanti proprio per seguire l'evoluzione della patologia e tenerla sempre sotto controllo è per questo che il cardiologo vi dirà se dovete ripetere l'ecocardiografia dopo 12 mesi dopo 6 mesi dopo 3 mesi ed è giusto che voi seguiate questa indicazione spesso molti di voi si dimenticano e lasciano correre i mesi e dopo avviene lo scompenso cardiaco nello stadio C ovviamente la terapia dovrà essere mantenuta a vita è sicuramente una terapia molto complessa perché prevede tanti farmaci ma può essere anche un decorso ancora lungo mentre nello stadio D siamo ovviamente nelle fasi finali e quindi la sopravviventa al massimo di qualche mese nel momento che abbiamo un'insufficienza mitralica tenuta sotto controllo con le terapie si possono avere degli scompensi per complicanze aggiuntive che possono insorgere in qualsiasi momento e dovete esserne a conoscenza quindi nel momento in cui avete la vostra terapia impostata dovete comunque sapere che possono esserci complicanze improvvise sono ad esempio queste problematiche di conduzione cardiaca quindi a livello di attività elettrica del cuore si può avere un'aritmia che è la fibrillazione atriale che avviene nel momento in cui l'atrio è estremamente dilatato quindi l'impulso elettrico non riesce più ad arrivare in maniera corretta al ventricolo in questo caso dovranno essere aggiunte ulteriori terapie a base di antiaritmici altra complicanza molto grave e improvvisa è la rottura di una corda tendinea queste valvole, la valvola mitrale è formata da due lembi che vengono diciamo sostenuti da delle corde piccole corde legamentose se una corda si rompe improvvisamente il sovraccarico cardiaco peggiora e si va in idea polmonare iperacuto quindi la rottura della corda tendinea è sempre possibile l'edema polmonare acuto è sempre possibile anche se il paziente era stabile da tantissimo tempo con la sua bellissima terapia ovviamente la rottura della corda tendinea prevede una terapia d'urgenza un'ospedalizzazione e poi si può tornare allo status quo quindi si può tornare a ricompensare il tutto come vi dicevo prima si può uscire da un edema polmonare e ritrovare il giusto equilibrio terapeutico altre complicazioni gravi sono l'ipertensione polmonare quindi un'eccessiva pressione a livello delle arterie polmonari e ultima ma non meno importante la rottura dell'atrio anche in questo caso l'atrio si è dilattato talmente tanto che si è assottigliata così tanto la parete da rompersi una complicazione ancora più grave della rottura della corda tendinea non sempre il paziente riesce a sopravvivere a questa complicanza voglio spendere due parole sulla vostra preoccupazione nel momento in cui avete una diagnosi di insufficienza mitralica nel vostro cane non possiamo avere una certezza matematica di quanto sarà veloce la progressione della patologia vi voglio dire che però la maggior parte dei pazienti restano nel loro stadio B1, B2 abbastanza compensati e moriranno di altre cause non sarà il cuore la causa della loro morte quindi non preoccupatevi eccessivamente le forme giovanili sicuramente sono più preoccupanti perché insorgono in giovane età e tenerle compensate proprio perché c'è una predisposizione anche di razza diventa più complicato però ricordatevi sempre che tramite controlli costanti terapie che vengono aggiustate continuamente il decorso di questa patologia può essere anche molto molto lungo quindi non preoccupatevi eccessivamente quando ricevete una diagnosi di insufficienza mitralica soprattutto se il vostro cane è già anziano quello che potete fare voi è assolutamente seguire le indicazioni del cardiologo e non mancare agli appuntamenti di controllo un test importante che potete fare voi proprietari a casa per monitorare il vostro cane è quello di misurare la frequenza respiratoria quando il cane dorme profondamente ovviamente il cardiologo vi fornirà queste informazioni ma ricordatevi di farlo ogni tanto almeno una volta al mese andare a contare gli atti respiratori devono essere sotto i 30 atti respiratori durante la fase REM proprio deve dormire molto molto profondo se sotto i 30 atti respiratori vuol dire che la terapia sta funzionando e il polmone non è sovraccaricato di liquidi quindi tutto sommato siamo in una fase di compenso e non dovete preoccuparvi eccessivamente ricordatevi che la rottura della corda tendinia è comunque sempre dietro l'angolo ma in quel momento quando il paziente dorme sotto questa frequenza respiratoria è assolutamente un segno positivo vuol dire che la terapia sta funzionando nel caso notiate un aumento della frequenza respiratoria prima di avere di nuovo l'appuntamento dal cardiologo cioè mettiamo il caso che il cardiologo vi ha dato appuntamento fra sei mesi dopo tre mesi notate che c'è un aumento della frequenza respiratoria gli telefonate al cardiologo e gli dite guardi che io ho notato un aumento della frequenza respiratoria non è che mi aspettate i sei mesi glielo dite prima dite c'è questo problema è aumentata la frequenza vengo prima a fare il controllo e lui probabilmente vi dirà di sì spero con questo video di avervi dato informazioni utili per conoscere e affrontare meglio questa patologia così comune se avete le domande come sempre fatele nei commenti ciao